Bella a tutti frienze e benvenuti in un nuovo video, ci troviamo su Fortnite Iniziamo subito il video con l'estrazione per il vincitore di questi portachiavi di Fortnite Ce ne sono 5 in palio, come potete vedere già mi trovo all'interno del mio gruppo Telegram E' aperto a tutti, primo link qua sotto in descrizione Eccolo qui il nostro giveaway dei portachiavi Ci sono 106 partecipanti, andiamo subito a vedere chi è il vincitore Ok, eccoci qui all'interno della schermata, ci sono 106 partecipanti come vi ho fatto vedere in precedenza Andiamo a estrarre il fortunato vincitore che si andrà a beccare questi 5 portachiavi totalmente gratis In bocca al lupo a tutti Eeeeee Il vincitore è il numero questo qui TSG Complimenti a TSG, non ho idea di chi sia, ti contatterò ovviamente in privato Così ci accordiamo per quando e come vuoi ricevere questo regalo Vi ricordo a voi che ancora non siete iscritti all'interno del gruppo Telegram Mi raccomando iscrivetevi ora, primo link qua sotto in descrizione Perché ci saranno altri giveaway di questi portachiavi di Fortnite In più, aspettate, 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 aspettate Eccola qui La maglietta di Fortnite Sembra una bancarella di Fortnite Ma per ottenere i picconi minti, lo sapete Bisogna acquistare qualche oggetto all'interno dei vari store di Fortnite Ed ecco qui, la maglietta Io ho comprato anche i timbrini e i portachiavi Farò una serie di giveaway totalmente gratuiti Vi basterà solamente entrare all'interno del mio canale Telegram Ormai è diventata una delle domande più frequenti che abbiamo fatto all'Epic Games Ma quando tornerà il Bazooka Bende? Perché anch'io devo terminare quella challenge Dove ci dice appunto di curare i nostri alleati con il Bazooka Bende Beh ecco, nel video di ieri vi avevo detto che mi sarei informato meglio Infatti questo qui, questo screenshot che vi sto mostrando L'ho preso all'interno del sito domanda e risposta di Epic Games E ci dice che verrà fixato nella prossima release Quindi vuol dire sarà fixato nella prossima patch Questa patch quando la vedremo sicuramente o questo martedì o questo m***o Quindi state tranquilli, condividete ora questa notizia con tutti i vostri amici Tranquillizzateli Perché in questa patch che vedremo questa settimana Ritornerà finalmente il Bazooka Benda O Bende, meglio Per quanto riguarda invece l'evento Star Wars Ancora non ho niente di concreto tra le mani Comunque penso, come già vi ho detto nei scorsi video Che vedremo qualcosa inerente delle stile Sicuramente per sbloccare uno stile di una skin che noi tutti amiamo E ci potrebbe anche essere qualche ricompensa molto succulenta Quindi mi raccomando, se sei nuovo iscrivetevi a questo canale E attiva la campanella delle notifiche Perché nel video di domani sicuramente vi saprò dire di più In merito a questo evento Star Wars Che vedremo quando uscirà la patch Eccoci qui signori, ci siamo puntuali come al solito Ci andiamo a gustare il nuovo shop Vediamo se ci sarà qualche novità Bella fresca Eee, oi, quanto carica Attenzione Brivido Guarda chi è tornato Da tempo in memory non tornava all'interno dello shop Il bombarolo lucente Bellissima questa skin 1200 V-Bucks Freschissimi Troviamo ovviamente anche la versione maschile L'artigliere lucente Con questo backpack che è stupendo Preferisco tra le due la skin in versione femminile Il backpack è davvero 10 e lode 1500 V-Bucks per lui E è tornato anche lo strumento di raccolta Andiamo a sentire il suo sound Bello fresco, bello croccante Piccone da 1500 V-Bucks ed è reattivo Completiamo il set con dirigibile lucente Andiamo a risentire il suo schieramento So fresh 1200 V-Bucks per lui Proseguiamo con operazione divertimento Anche qui è un bel ritorno Oh mio dio Ma questo stile già era presente prima all'interno dello shop Non me lo ricordo sinceramente Fichissimo Anche se operazione divertimento È solo one Ed è questo qui Capellone operazione divertimento Stavo per andare avanti Ma non vi ho fatto vedere il backpack Che è una palla da discoteca ad oro 1500 V-Bucks per lui Troviamo ovviamente anche la sua versione femminile Diva della disco Quella Accattivanti questi ricetti Non male Ce ne forniva con questo backpack Che si illumina Carinissimo 1200 V-Bucks per questa skin Proseguiamo con l'ultimo oggetto Per concludere questo set È discolotta Ogni volta una melodia diversa Disco Stu 1500 V-Bucks per lui Ed eccolo qui L'ultimo set per oggi Uh Frit Lotz è tornata Questa skin che ha uno stile Ve lo faccio vedere subito Utilizziamo la barra cerca Va per la prima volta Vediamo se funziona Frit Eccola qui la frittellona Questo stile è davvero una bomba Bianco, nero e rosso 10 V-Bucks per questo stile Davvero molto molto bello Ovviamente il backpack È questo qui che vi mostro ora Versione classica E versione top aggressive Molto molto carino Anche il backpack Proseguiamo con la versione maschile Ringlio Questa skin non mi è mai piaciuta Anche qui possiamo trovare Lo stesso stile per la skin femminile Bianco, nero e rosso Ma non mi entusiasma Sinceramente Preferisco nettamente la skin femminile Anche qui abbiamo il backpack Classico E bianco, nero e rosso 1500 V-Bucks per lui Martello spammatico L2 Andiamo a sentire il suo sound Duro, rovente, Hulk 500 V-Bucks per lui Terminiamo il set con il loro deltaplano Rieniamo a sentire il suo schieramento Clean 800 V-Bucks per lui Eccoci arrivati alla prima skin Degli oggetti giornalieri per oggi Abbiamo un mastino skin Che non mi entusiasma per niente 1200 V-Bucks per lei Proseguiamo con l'emote Pizza party Da real Napoledano E italiano ovviamente 200 V-Bucks per lei Uuuuh Fresh Un graditissimo ritorno Extraterrestre 500 V-Bucks per lei Andiamo a vedere la fila sotto set Di oggetti giornalieri per oggi Abbiamo percussore stradale Mmmmm Bah Non lo so Sembra avere un pigiamone Quindi non mi piace 1200 V-Bucks per lei Proseguiamo con la prima copertura All'interno dello shop È magma Bomba di copertura È tornata a trovarci Questa è una delle migliori A parte che le coperture A parte che le coperture sono tutte bellissime Che hanno fatto veramente dei capolavori Però questa la mettiamo nella mia top 3 700 V-Bucks per lei 700 V-Bucks per lei Concludiamo lo shop con l'ultima emote per oggi In cassaforte A posto 200 V-Bucks per lei Signori da oggi voglio introdurre una nuova cosa da fare con voi Infatti voglio che mi scrivete qua sotto nei commenti Secondo voi qual è l'oggetto cop all'interno dello shop Quindi il più bello Secondo me l'oggetto cop è bombarolo lucente E ovviamente qual è l'oggetto drop Quindi il più brutto che secondo me è Mastino Aspetto di sapere le vostre valutazioni qua sotto nei commenti Così ci confrontiamo anche Vediamo se abbiamo gusti simili oppure totalmente opposti Prima di salutarci vi ricordo il codice più fresco del centro d'Italia Rasco trattino basso OMG Grazie mille a tutti davvero per shoppare con il mio supporto Un cratoretta cademi all'interno delle storie di Instagram Così vi posso ricondividere Il mio Instagram è r4sco trattino basso Noi ci vediamo più tardi con la live Questa sera alle 21 fino a mezzanotte E le belle Mesami